Siamo molto contenti che Alma Shalabai e sua figlia sono in Italia, per noi del Movimento 5 Stelle il gruppo che ha sollevato per primo il caso e lo scandalo, la questione non è chiusa, vogliamo sapere se c'è dietro l'ENI e vogliamo che il ministro Alfano, ministro indecente, non sia più ministro degli interni.